Giuseppe d'Arimatea era un uomo di grande ricchezza e rispettabilità, membro del Sinedrio, il supremo consiglio ebraico. Era un discepolo segreto di Gesù, poiché temeva le ripercussioni dei suoi colleghi. Tuttavia, la morte di Gesù spinse Giuseppe a compiere un atto di coraggio straordinario. Dopo la crocifissione, Giuseppe si recò da Ponzio Pilato, il governatore romano, e chiese il corpo di Gesù. In un'epoca in cui i corpi dei condannati venivano lasciati a marcire sulla croce o gettati in fosse comuni, questo gesto era audace e rischioso. Pilato, forse sorpreso dalla richiesta, concesse il corpo a Giuseppe. Giuseppe, con il cuore pesante ma determinato, depose il corpo di Gesù in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia, che aveva preparato per sé. La tomba era situata in un giardino vicino al luogo della crocifissione, il Golgota. Con questo gesto, Giuseppe non solo diede a Gesù una sepoltura dignitosa, ma manifestò anche apertamente la sua fede in Lui come Messia. Nella tradizione cristiana, Giuseppe d'Arimatea è spesso considerato il primo cavaliere del Graal, il custode del calice usato da Gesù nell'ultima cena, simbolo del suo sacrificio e della salvezza eterna. Nicodemo era un fariseo dottore della legge, ma anche lui nutriva un profondo rispetto per Gesù. La sua prima apparizione nel Vangelo di Giovanni lo vede andare da Gesù di notte, per timore dei suoi colleghi. In questo incontro, Gesù gli parla della necessità di rinascere dall'alto per entrare nel regno di Dio. Una conversazione che confonde e affascina Nicodemo. Colpito dalle parole di Gesù, Nicodemo inizia un percorso di fede che lo porterà a diventare un discepolo del Signore. Nonostante la sua posizione di prestigio e il rischio di essere ostracizzato, Nicodemo difese Gesù durante un dibattito nel Sinedrio, esortando i suoi colleghi a non condannarlo senza un processo giusto. Dopo la morte di Gesù, Nicodemo si unì a Giuseppe d'Arimatea per preparare il corpo di Gesù per la sepoltura. Portò con sé una quantità ingente di mirra e aloe, circa 100 libre, una quantità riservata ai re, per ungere il corpo di Gesù. Questo atto di devozione estrema dimostrava quanto Nicodemo fosse stato trasformato dall'incontro con il Cristo. Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo rappresentano la figura del discepolo nascosto, colui che crede in segreto ma che, nel momento decisivo, trova il coraggio di agire apertamente. Essi non erano tra i dodici apostoli, né erano noti per aver predicato il Vangelo, ma le loro azioni nel momento cruciale della morte di Gesù furono altrettanto fondamentali. Giuseppe e Nicodemo sfidarono il potere costituito e i pregiudizi religiosi della loro epoca, rischiando tutto per onorare il loro maestro. Con il loro esempio insegnano che la fede vera non si misura solo con le parole, ma soprattutto con i fatti. Essi ci mostrano che anche coloro che vivono nell'ombra possono, quando viene il tempo, emergere alla luce e fare la differenza.